Salve a tutti ragazzi, sono Lorcan e vi do benvenuto a questo nuovo filmato. Oggi andiamo a dare un occhio a questo pack di mani, questo è 28700 che arrotonderò a 30k. Mani, mandatemi dal nostro Perplexity, giocatore di Stars, che mi ha chiesto consiglio tramite un messaggio privato di Facebook che ho letto tipo 7 giorni dopo, perché stasettimana ho avuto la red mensili e Facebook non l'ho praticamente mai guardato infatti c'era giusto qualche messaggetto ad attendermi, scusate ragazzi, mille cose da fare la prima settimana sono tipo MyOnline per Facebook, quindi eccoci qua a vedere questo campione, dai so via. Cercherò di dare qualche consiglio generale, non sono sceso in un'analisi dettagliata di spot perché a mio avviso c'è molto da ragionare sulla linea generale che Hiro ci propone come sua linea standard non so parlare, è naturale, lunedì mattina sono svegliate alle 5 per farvi il report della back, capite come sono preso. andiamo un'occhiata subito al grafico, in queste 30.000 mani perdiamo 7.000 miliardi, no esattamente, showdown o showdown, 251 al non showdown e vinciamo 278 allo showdown, da qui la nostra differenza che è il profit di questi 30 euro che sono sì, diciamo pochi buy in. Come idea generale questo stile di gioco che andremo ad analizzare a breve tende molto a soffrire della run, siamo leggermente sotto evi ma quello veramente è una cosa su cui non dovremmo dare praticamente alcun peso tende comunque a subire tantissimo dalla run perché finché questo stile diciamo che gioca meglio dei propri avversari ma a livello 1, nel senso noi guardiamo cosa abbiamo in mano, giochiamo di conseguenza, lo facciamo meglio dei nostri avversari, facciamo un po' di soldi perché loro lo fanno peggio di noi ma diciamo che non ci distinguiamo molto dalla massa creando una linea di gioco che principalmente cerca proprio di giocare le nostre carte in base alla nostra percezione di quanto forti esse siano come parlo Forbito stamattina, chi lo sa, è chiaro che finché questa linea di gioco vede reggere i propri punti tutto andrà bene ma ecco che quando poi la run ci prende un po' pesce in faccia per via di questa rossa estremamente negativa c'è veramente poco da fare per salvarci, vedete come le prime tipo 20.000 mani siano in sostanza live ne recuperiamo qualcosa sul finale, il discorso è questo, parliamo 2.3 di linea rossa, vinciamo 2.4 di linea blu da qui viene il nostro soldino, aggiungiamo che su Stars non c'è back per cui questi 82 euro di rake prodotti si traducono in 8 euro di back quindi circa neanche un cappellino prodotto in Cina no, 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 niente, contro le cose prodotti in Cina ma mi secca un po' che una grande lobby poi ce le vinda come se fosse una strafigata, sì, anch'io ho delle cose che mi ha mandato Stars ma diciamo che avrei preferito un po' di back sonante, comunque chiudiamo qualcosina sotto a V, ci può stare abbiamo uno stile che è un 18-15-4 sostanzialmente in value praticamente in tutti gli spot una 4-bet quasi inesistente per il 9-5, 1.8 è sostanzialmente value una fold vs 3-bet veramente altissima, foldiamo 3 volte su 4 da qui anche ecco perché la nostra linea rossa tende a soffrirne tantissimo, uno squeeze che non ha diciamo non ha value, anzi abbiamo 4 di 3-bet 3 di squeeze, addirittura abbiamo un range di squeeze più piccolo del nostro range di 3-bet una c-bet leggermente sbilanciata ma adesso andremo a vedere queste stats in posizione soprattutto anche a river dove veramente abbiamo sostanzialmente solo e unicamente value i fold sono sbilanciati anch'essi, tendiamo a overfoldare flop per foldare poi relativamente poco sul turn e la nostra linea di aggression è più o meno ok, flop turn river considerando il field cioè è naturale essere un po' sbilanciati i flop turn e avere magari meno range sui river proprio per cogliere gli errori dei nostri avversari un'altra cosa che ho notato, un altissimo fold dei blinds, un totale assenza della linea di check raise che totale è sempre eccessivo e diciamo che avere uno proprio vuol dire che abbiamo fatto 100 volte su 30.000 mani forse è un po' poco un wedge showdown mediamente molto basso che fa sì che un avversario con lettura possa mandarci via da veramente un sacco di piatti e generalmente tendiamo proprio a non bilanciare le nostre linee sui nostri avversari la river con l'FCS è piuttosto buona in realtà ma anche dovuto al fatto che raggiungiamo pochissimi showdown e i nostri fold sono generalmente veramente troppo 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 grandi andiamo a dare un occhio alle stats su queste ultime 20.000 mani così come compagnie nel pop up la linea di gioco per quanto sia posizionale 18-24-35 allargando diciamo la linea da posizione tende comunque a essere poco esploitativa con dei range che praticamente ci siamo, sembra almeno, creati su una tabellina e cerchiamo di giocare un po' a macchinetta sempre sempre gli stessi come accennavo all'inizio è una cosa che sì può portarci a un finale profit ma no, non ci rende decisamente migliori i giocatori del livello né i giocatori meglio candidati, si può meglio candidarsi, non lo so ma candidati a un futuro e felice level up la nostra linea di 4bet 1.8, 2 circa se andiamo a dare un occhio al nostro equilab più o meno a quante mani corrispondono un 1.8 mi pareva fosse di 4bet 1.8 sono ben 24 combo e non voglio dire che siano esattamente queste ma è chiaro che questa è sostanzialmente unicamente valo è tutte mani con cui generalmente ci sentiamo avanti a chiunque per qualsiasi motivo, senza nessun ritegno ma se il nostro range di base è qualcosa di questo tipo la nostra linea è ridattata, se questa è la media quando vogliamo chiudere un po' i range cosa facciamo? chiamiamo solo queste? quando vogliamo allargare un po' i range cosa facciamo? mettiamo queste? il resto è comunque un range talmente piccolo che generalmente non sarà adatto alla situazione che stiamo affrontando nelle nostre costruzioni dovremmo cercare sempre di ragionare su quale value costruire contro il giocatore che stiamo affrontando nello spot specifico e quanto bluff mettere nel nostro range se noi qua per esempio avessimo una 4bet value diciamo di così approssimativamente contro quel giocatore di 50 combo vorremmo metterne almeno diciamo una piccola parte di bluff prendendo qualche combo 50 combo è il nostro value potremmo prendere 12 combo di asso 10 4, 8, 12 combo di asso suite e già avremmo creato un range che ha un terzo di bluff non voglio dire che questo è un range che dovremmo avere sempre e comunque dipende molto dalla situazione che stiamo affrontando ma è un minimo di range che abbia una parte diciamo di costruzione e non solo proprio un range che si basi sulle carte che abbiamo e sul fatto che le riteniamo veramente forti e fichissime anche perché una 4bet del 3 avrebbe una media di questo range e già una media di questo range almeno ogni tanto può contenere un po' di bluff con una linea vagamente bilanciata e ogni tanto può aumentare value ma se la nostra parte di range di base è troppo chiusa sarà molto difficile riarrangiare la nostra costruzione un'altra cosa importante sulla nostra linea di squeeze 4 di 3bet, 3 di squeeze normalmente quando andiamo a squeeze lo facciamo su ovviamente un raise di un giocatore e il call di un altro se no è bella forza non sarebbe uno squeeze ma quando noi affrontiamo questa situazione siamo spesso dei blinds abbiamo spesso un sacco di informazioni in più generalmente chiudiamo il giro di puntate per cui a parte eventuali action dei giocatori che vengono squizzati non ci aspettiamo inconvenienti da giocatori che hanno foldato perché sapete hanno foldato difficilmente potranno rientrare nella mano quando noi abbiamo una buona lettura sull'original razor che più spesso della media della maggior parte delle volte la maggior parte delle volte è un giocatore più o meno sensato perché ovviamente un giocatore come un 50-0 o un 35-8 non è esattamente un buon target da avere come original razor perché sostanzialmente non rilanciano mai hanno principalmente mani abbastanza forti quindi il nostro range di squeeze sarà sostanzialmente solo value quando invece rilancia un altro giocatore magari un giocatore come noi in questo caso perplexity rilanciamo la bottone 35% chiamo un giocatore che ne so prendiamo Edgar middle stack relativamente passivo overfold dell'original razor giocatore passivo middle stack che avrebbe tributato il suo range più forte il nostro range di squeeze qua potrebbe aumentare ragioniamoci un istante vediamo un attimo come potremmo costruire in questo spot allora nello spot in analisi rilancia perplexity perplexity rilancia un 35% dalle mani più o meno da bottone grosso modo molto grosso modo queste l'altro giocatore avevamo detto essere un 30-10 35 quello che è per cui diciamo che più o meno il range con cui chiama sarà qualcosa di questo tipo con qualche suited in più ben sappiamo che a questi giocatori ci piace chiamare queste mani magari qualche asso X ma grosso modo insomma un 30% l'idea è che se questo comunque giocatore ha chiamate non tributato generalmente non ha questo tipo di mani che normalmente anche lui avrebbe squizzato avrebbe tributato in quello spot quando noi costruiamo un range di squeeze in questo caso pensando all'original razor apre 35 quindi il nostro range di value potrebbe essere qualcosa di questo tipo come idea in un tributo è un range anche piuttosto stretto ma mi serve solo per chiarire un po' il concetto in questo caso abbiamo 72 combo di value andremo a mettere in una parte di bluff dicevo almeno metà diciamo 36 combo diciamo 12 24 36 grosso modo di bluff di base contro poi un original razor che overfolda quindi folda 78 rispetto a una media del diciamo 66 potremmo andare a raddoppiare un po' il nostro range di bluff quindi in questo caso visto che hanno squeeze andremo a mettere 16 combo di questo tipo altre 12 combo di questo tipo potremmo creare un range grosso modo di questo tipo in più il giocatore che chiama tendeva a tributare le mani migliori per cui cerchiamo di aggiungere qualche altra mano che sia value contro il range di call del fish e che sia blockers contro il range di apertura di perplexity in una situazione di questo tipo abbiamo costruito un value una parte base di black una parte aumentata su perplexity e una parte diciamo aumentata di value e blockers value contro fish e blockers contro original razor avremo un range di squeeze approssimativamente del 13% tutto molto improvvisato non sto dicendo che questo sia il miglior range di squeeze applicabile perché in realtà non ho costruito un value di base molto molto attendibile ma l'idea è questa non squeezeeremo per capirci questo tipo di mani perché semplicemente giocano troppo bene 8-8 ci possiamo anche voler ragionare ma questo tipo di mani non lo squeezeeremo quasi mai perché sono mani che giocano veramente troppo bene come range di call invece questo altro tipo di mani se noi andiamo a mettere troppi asx troppi kx troppi asx allora ci troveremo un po' troppo sbilanciati in bluff e la situazione andrà diciamo contro di noi invece che a nostro favore avete notato però come partendo da un range un po' strettino siamo riusciti ad aumentare la nostra parte di range grazie alle nostre letture e alla posizione da cui la nostra giocata proveniva quindi a mio avviso Hero dovrebbe studiare un po' la composizione di un range di squeeze ragionare un po' su quali sono gli aspetti per aumentarla per ridurla creare un range diciamo più specifico per specifico con una lettura migliore e sulla situazione che stiamo affrontando aggiungiamo qualche altro dettaglio il nostro range di call è piuttosto piccolo andiamo a vedere come se la cava Hero nel suo range di call call filtro che ancora non ho applicato per cui lo vedo con voi per la prima volta mettiamo il BPP throw il prefer place falsetto e togliamo giusto un paio di mani giusto per evitare che magari ci siano stati dei call su giocatori corti o cose di questo tipo filtro vieni su tolto queste mani messo le linee di call call dalle varie posizioni magari devo andare in position per applicare queste cose comunque notiamo che non stiamo vincendo proprio tantissimo vediamo dalle varie posizioni come come si è comportato Hero vinciamo comunque un soldino da bottone da cut off buon segnale ma immagino vedremo principalmente ecco mani come jack 10 33 99 k jack sweater diciamo le mani e non la situazione abbastanza positivi da bottone anche se un buy in su 200 mani e un po' negativi da small addirittura perdiamo 140 baby 100 foldando l'intero range avremmo fatto meno 50 baby 100 come idea generale vorrei vedere anche dal nostro grafico sulla nostra linea di call call che tipo di linea rossa abbiamo abbiamo una rossa che scende abbastanza a treno e una blu che sostanzialmente non si muove di un granché quando ecco quando andiamo in linea di call call vogliamo fare profit perché abbiamo investito zero soldi e dovremo cercare di avere un piano su quello che vogliamo fare se pensiamo per esempio contro quel cut off e con quel BB che non squizza mai potremmo avere anche una rossa positiva perché è sbilanciato per questo e per quello allora la nostra impostazione exploitativa potrà essere più precisa e più felice la nostra linea di call call che comunque è praticamente solo carte che dal punto di vista di hero giocano bene in quello spot quindi 4-4, 5-5 mani più o meno marginali con cui hero ha posizione e decide di diciamo di giocare una giocata passiva nella speranza di fare soldi poi pass flop basso il range di call call cioè solo un 3% e a mio avviso non exploitativo quindi molto basato proprio sulle carte che abbiamo in mano la linea di tribet 4-4 è proprio poco 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 se 4 è il nostro range medio andiamo a vedere a quante combo corrisponde sono ben 50 combo praticamente è anche questa volta solo un range di valore dovremo cercare anche in questo caso di mettere un po' di bluff nei nostri range prendiamo per esempio giusto che ce l'abbiamo qua questo merit 6-994 che è un giocatore che apre circa il 20% da tutte le posizioni grosso modo e dalle poche maniche abbiamo ma prendiamo prendiamo questo Vexilin che è ancora meglio Vexilin folda l'80% alla tribet what bro e folda il 91 al restill what the hell bro ecco quindi contro un giocatore di questo tipo la nostra parte di bluff dovrebbe essere tipo due volte la nostra parte di value per cui se veramente questo fosse il nostro value è 50 combo in questo spot specifico contro Vexilin che apre o che magari lui apre un altro giocatore chiama soprattutto se è un giocatore nell'atto fisci i nostri range dovrebbero almeno triplicare nel senso che se abbiamo 50 combo di value potremmo andare a metterne fino a 100 praticamente di bluff creando un range abbastanza randomico quello che ho appena fatto ma di 150 combo con due parti di bluff e una parte di valore mi raccomando la lettura sui nostri avversari perché è un po' la chiave per poter uscire dal nostro livello 1 cioè cosa ho in mano entrare verso un livello 2 cosa potrebbe avere in mano l'avversario e spostarsi verso un livello più dinamico che può arrivare a capire cosa l'avversario pensa di quello che noi stiamo facendo che tipo di range anche quello spot dove è sbilanciato e perché perde soldi diciamo una linea di gioco ottimale precisa e che ci permetta di levelappare non solo aspettando che la run si inverta e che prima o poi avremo i soldi per poter finalmente levelappare con bassa cognizione di causa e generalmente con pochi risultati perché quando poi ci affidiamo la run e allora è tutto un fiume non so perché con queste cose ma voi fate finta che non l'abbia detto la nostra linea di fold è troppo alta la nostra linea di squeeze non esiste non abbiamo 4 bet non abbiamo una buona 3 bet a mio avviso abbastanza ribilangiata sugli avversari tendiamo a overfoldare la situazione di blind foldiamo 84% dei bui grandi contro il bottone 76% contro il BB questo concetto è abbastanza facile da capire in linea generale Oppo quando apre da bottone diciamo che investe 3 grandi bui per vincere un piatto di un grande buio e mezzo che è il BB e lo small blind se noi foldiamo più del 66% delle volte il nostro avversario è sostanzialmente automaticamente in valore atteso positivo lasciando stare il post flop intendo come idea generale se noi abbiamo un fold dell'80 Oppo potrebbe risare ATC e non fare un errore noi non vogliamo che lui non faccia un errore perché se lui non fa errori noi non prendiamo soldini quindi come idea generale dovremmo cercare di difendere almeno un terzo delle nostre mani in blind vs blind di base se poi abbiamo motivo per restringere questo range o aumentarlo allora ben venga ben ci sia spazio alla nostra lettura al nostro margine di skill alla nostra linea esploitativa contro il nostro avversario ma se noi di base difendiamo una volta su 5 il nostro buio grande è chiaro che la nostra linea rossa andrà decisamente a scendere come concetto di base quando noi difendiamo un BB vogliamo fare meglio di meno 100 BB100 perché se noi foldiamo 100 volte BB facciamo meno 100 BB100 eh clap clap si vede che ho studiato matematica al liceo eh decisamente chissà perché poi ho scelto legge ma non lo so comunque se ne dobbiamo sapere che se questo è il nostro leak dobbiamo lavorare per correggerlo ragioniamo su quante mani abbiamo da buio grande ovviamente ATC nel senso che siamo la buio grande bella forza abbiamo una mano a caso cerchiamo di difenderne almeno il 33% creiamo dei range di base dei range esploitativi se poi abbiamo per esempio un giocatore come il nostro gatto matto che poi al flop ci betta pochissimo ed è estremamente passivo allora la nostra linea di difesa può assumere diciamo tinte un po' più marginali con mani un po' più ehm un po' più basse come 6-7 suited per dirne una perché generalmente vedrà 4 carte avrà una linea di gioco un po' più agevole anche se fuori posizione se invece siamo contro un giocatore che magari ci betta piuttosto unbalanced tipo 70 flop 40 turn allora potremmo creare una linea su quel giocatore che permetterà di avere maggior check raise maggior range di difesa al flop maggiore smargine di gioco senza comunque sopravvalutare il vantaggio di giocare in posizione è sicuramente importante giocare IP ma quando il giocatore è particolarmente sbilanciato pensiamo per esempio al nostro perplexity che overfolda pre per poi overfoldare flop cioè foldiamo 77 pre e foldiamo l'85 what bro praticamente cosa stiamo difendendo solo top per top kicker c'è qualcosa che non va chiaro è che se un avversario non ha read su di noi e noi insomma diciamo riusciamo a farci pagare quando abbiamo il punto va bene ma mano a mano che saliamo questa cosa ci rimarrà sul groppone come potrebbe come il mio gatto stamattina che si lamentava perché aveva tanta fame più o meno qualcosa che ci miagola nell'orecchio però insomma avete capito l'idea liberiamoci di questa cosa oppure diamo da mangiare a questo povero felino ecco proseguendo un po' la nostra read le c-bet possono anche andare abbastanza bene anche se al flop ci battiamo 70 contro un 50 turn però venendo da un range piuttosto chiuso per cui non è così terribile avere una linea sbilanciata ma se noi riadattiamo un po' la nostra il nostro range di 3-bet per flop poi sarà naturale che le nostre linee di continuation bet vadano bilanciandosi affrontando una continuation bet invece noi chiamiamo poco pre scusate le martellate ma stanno probabilmente creando una processione cristiana no questa era bruttissima lasciamo stare se noi al pre flop chiamiamo solo il 3 4% e al flop foldiamo 71-85 sostanzialmente come idea stiamo chiamando come per esempio 6-6 e se non settiamo ce ne andiamo nel senso che 7 volte su 8 6-6 non setta e noi foldiamo una volta su 8 noi settiamo e rifendiamo la mano praticamente il concetto base è che noi siamo un hit or fall cioè se miglioriamo il flop benissimo se non miglioriamo il flop bye bye ecco è un atteggiamento che si può sicuramente riconoscere ai nostri avversari e dovremo sicuramente punirli per questa tendenza onestamente è una di quelle cose che dobbiamo toglierci il prima possibile come idea generale se noi difendiamo un 50-50 flop turn grosso modo dei nostri range saremo meno exploitabili più attenti alla nostra azione faremo più profit avremo una rossa migliore avremo anche un'immagine al tavolo che ci aiuterà a fare anche più soldi in fronte ai nostri avversari come idea generale poi ci battiamo il 60 e quando non ci battiamo foldiamo l'82 sostanzialmente quando noi cecchiamo difendiamo una volta su 5 è chiaro è che se un avversario a questa lettura punterà tipo sempre e noi folderemo tipo sempre abbassando molto la nostra rossa non avendo dei buoni range sul turn creando quindi una situazione estremamente exploitabile stesso discorso nei piatti tribettati dove fra l'altro apriamo un range abbastanza chiuso overfoldiamo pre capiamo un attimo questo concetto noi apriamo il 34% dei bottoni torniamo a noi eccolo qua 34% dei bottoni sono 450 combinazioni 450 combo di cui ne foldiamo il 77 per flop 450 per 0.77 ne foldiamo quindi 350 per cui ne difendiamo 100 di queste 100 ne foldiamo 85 al flop 85% quindi di queste 100 noi stiamo difendendo 15 combo 15 combo a valore percepito di top set no a valore percepito di set perché grossomodo possiamo immaginare che insomma su un board di tre carte diverse almeno 9 volte noi avremo il nostro set e le altre 6 magari un over pair che cosa stiamo facendo stiamo veramente giocando solo solo unicamente le carte il discorso sulla linea di aggression più o meno l'abbiamo affrontato la dong bet è bassa e può andarci 14% di bet versus miss anche qua è una linea abbastanza poco diciamo mirata sui nostri avversari che veramente va a bettare a cercare sostanzialmente solo di avere la mano migliore per poi cercare di arrivare lo showdown ancora con la mano migliore ecco questo discorso in generale mi sono soffermato molto sulle stats in generale perché a mio avviso è la cosa principale che il nostro hero dovrebbe fare per migliorare uscire dalla sua diciamo non saprei come dirlo piccola zona di confidenza giochiamo le carte meglio degli avversari vinciamo solo dai loro errori sì ma non abbastanza volte cioè praticamente ha gli occhi fuderato di prosciutto e non sa che tanto noi abbiamo un top pair lui ci pagherà ma la nostra mano verrà valutata uguale a prescindere dal nostro avversario e dai nostri board cioè abbiamo a K è uscito il K basta non ho bisogno di vedere altro invece quando poi siamo contro un giocatore particolarmente sbilanciato non riusciremo a trarre maggior profit non riusciremo a perdere meno quando la mano risulta battuta non avremo una linea che va a esploitare gli errori dei nostri avversari Vexilum chiaramente avrà anche egli una rossa molto negativa in generale overfolda veramente troppo in questo spot il suo leak principale la difesa contro 3bet noi dovremo quindi diventare implacabili inseguitori di leak degli avversari e naturalmente le nostre statistiche andranno a correggersi da sole è importante non giocare per avere alcune delle stats non possiamo dire ok voglio aumentare il 3bet va bene aggiungiamo mani GG ecco in realtà dobbiamo pensare che il nostro range di 3bet si basa principalmente su quello dei nostri avversari quindi creiamo un range che sia più esatto più adatto alla situazione che stiamo affrontando se come nell'esempio di prima in alcuni spot il nostro squeeze sale attorno al 12 al 13% in altri spot per esempio rilancia un ABC 30-10 che non fonda mai chiama Fish che magari tribetta il 2 allora è chiaro che lì il nostro range di squeeze sarà sostanzialmente valore per cui in quello spot magari squeeze eremo il 5 in un altro spot rilancia Vexilum chiama un giocatore che ne so come gatto matto 30-20-10 che poi overfolda anche in generale allora il nostro range di squeeze si sposterà attorno esagerando attorno a un 15% per una media per questi due valori di circa il 10% chiaramente il nostro range medio di squeeze sarà 7-8 quindi il nostro range di squeeze medio in questo termini sarà attorno all'11-12% squeeze eccessivo per il non limit 5 a mio avviso di starsi in questo momento anche perché avendo tolto la becca ai giocatori sono rimasti pochi regolar sensati ma non perché non siano sensati quelli che ci giocano perché i più sensati senza back le bollette non le pagano e chi diciamo grinda per professione non può permetterci di essere sballuzzolato dalla rana destra-sinistra ma poi magari quando arrivano le bollette può provare a vedere se con una felpetta di stars tutto torna perché ce l'ho così tanto con starsi non lo so non lo voglio sapere abbiamo ragionato comunque molto abbastanza al fondo in realtà su quali sono le linee sbilanciate di hero per cui le tendenze marcate del suo stile di gioco sul fatto che per correggerle non dobbiamo lavorare solo per avere quelle statistiche ma giocare sui nostri avversari così che le nostre stats siano un sunto di quello che abbiamo fatto e diciamo si bilanceranno da sole sul livello che stiamo affrontando io consiglierei hero di studiare in linea teorica diversi concetti tra cui alcuni concetti di mdf alcune linee diciamo di costruzione di 3bet di 4bet di difesa contro 3bet la meccanica che sta dietro alla difesa di blind vs blind la linea post flop e l'atteggiamento che diciamo noi abbiamo al tavolo come idea generale consiglierei hero di pensare di giocare contro se stesso in un tavolo composto da 4 giocatori 5 giocatori esattamente come lui sarebbe decisamente perplexity in questo momento ecco però pensare a che tipo di giocatore di che tipo diciamo di profit potrà fare da un giocatore per esempio guardando queste stats e guardando questo grafico dove mai non molti game eccolo qua guardando questo grafico è chiaro che da hero noi prenderemo poco di linea blu perché è un giocatore che tende ad avere una linea blu abbastanza positiva ma faremo molto molto di linea rossa per cui dovremo decisamente incoraggiare la linea esploitativa la linea di restill la linea di floating per risare il nostro hop relativamente spesso relativamente diciamo in base ai suoi range mi raccomando in questo momento hero sta giocando una sorta di livello di pensiero 1 cosa ha in mano quando in realtà se l'avversario medio gioca a questo livello noi dovremmo metterci a livello 2 cioè cosa è il nostro avversario in mano se poi troviamo un giocatore che cerca di giocare sulle nostre per qualche motivo cerchiamo di pensare cosa l'avversario pensa che noi potremmo avere in mano come concetto generale mi raccomando poi sui fish quelli un po' più 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 face up cerchiamo di capire cosa loro ci possono fare in mano e pensiamo che loro più che farci un range tendono a farci una mano specifica per cui non stiamo a metterli a livello 2 magari a 1 e mezzo ci fa in mano a socappa ci fa in mano 4-4 ci fa in mano quel tipo di mano lo possiamo capire dallo sbilanciamento delle stats per esempio un giocatore che folderà il 30% di flop tenderà a farci in mano carte alte per capirci per cui non ci fa il punto un giocatore che tenderà a foldare il 70-75% alle volte tenderà a farci in mano il punto per cui tenderà a foldare un po' di più ragioniamo in questi termini miglioriamo sempre di più diciamo la nostra lettura la nostra cognizione studiamo perché quando si smette di studiare è la volta che non si fa molto avanti non affidiamoci solo alle nostre carte per vincere ma principalmente affidiamoci alla nostra lettura al nostro margine di skill alle informazioni che abbiamo al tavolo come le raccogliamo e come le sfruttiamo prendiamo qualche nota in più e giochiamo sempre sempre meglio che è una cosa super importante perché da queste mani io l'ho giocato uguale dalla prima all'ultima mano in queste 30.000 mani e non ha secondo me tirato fuori molto di utile in termini di miglioramento poi è chiaro che sono comunque poche mani e sono comunque mani che ci hanno dato qualche soldo abbiamo fatto 27 di profit 8 di back 35 euro in 30.000 mani credo che probabilmente la consegna di volantini potrebbe avrebbe potuto darci maggiori soldi e farci prendere anche un po' di sole magari conoscere anche qualche ragazzuola non so chi si farebbe uno che consegna volantini ma non annuncerò che consegna volantini ma credo che poi se noi iniziamo a seguire fanciulle lanciando volantini potremmo probabilmente essere arrestati di lì a poco e una cosa non credo sia super e vi però magari una volta in carcere grinderemo come dei pazzi ok non so più cosa sta dicendo per cui immagino che la RID stia volgendo verso la sua conclusione se poi perplexity avrà domande insomma che mi faccia sapere da Facebook visto che non ha il mio contatto Skype suppongo cercheremo magari di aiutarla ancora un po' ma il mio tempo per le ride esterne non è tantissimo in questo periodo anche perché sto affrontando un percorso di coaching in Omaha e in Spin & Go ma da coachato e non da coach perché a me piace sempre l'idea di allargare un po' il campo di conoscenza allargare il mio super mega fanta hiper paniere che è un concetto matematico ma in questo momento ho tanta fame per cui mi è venuto in mente dentro questa ultima stupidaggine direi che è ora di salutarvi ci vediamo nel prossimo video per quello di oggi è tutto un saluto alla prossima da Lord Kane ciao 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 a tutti ciao a tutti ciao ciao